Il 13-14 ottobre fai vincere la ricerca. Una mela per la vita ti aspetta in 3.000 piazze italiane. Entra nel movimento, sostieni la ricerca. L'unica arma oggi per sconfiggere la sclerosi multipla. Corri anche tu, scegli le mene dell'Ansp. Dal 30 settembre al 15 ottobre sostieni una mela per la vita anche con un sms da 2 euro al numero 45504. Grazie per la visione!